Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video HP Envy X360 è un convertibile con AMD Ryzen 5 è uno dei primi modelli che esce con questo processore io non avevo mai provato nemmeno un Ryzen desktop quindi ero molto curioso di provare un processore AMD quindi ho avuto in prova per un mesetto questo HP vediamo subito come mi sono trovato partiamo dalla confezione classica nella confezione troviamo infatti il convertibile un caricatore da parete che devo dire che è compatto un cavo dati da Type-C entrambi i lati purtroppo non ricarica il convertibile ma comunque si può usare per collegare hub e varie periferiche e poi qualche manueletto di istruzioni e un appena attivo da usare con il touchscreen di questo HP ottima qualità costruttiva abbiamo un corpo in metallo molto sottile con un design particolare e molto elegante secondo me mi è piaciuto tantissimo ovunque è leggerissimo comunque è un 13,3 pollici ha cornici molto ridotte pesa pochissimo insomma quindi perfetto da portare in giro quindi si può lavorare ovunque anche in mobilità comunque è anche solido quindi comunque non ha dato nessun tipo di problema è comunque segnalo che non si apre con una mano ma comunque poco male invece parliamo di componenti sul lato destro troviamo l'alimentazione purtroppo ha un attacco proprietario poi c'è una USB di tipo C una USB standard e il bilanzione del volume mentre su quello sinistro c'è il gioco per le cuffie un'altra USB standard il tasso di alimentazione e anche un ingresso per le microSD peccato che manchi lo slot per la scheda SD standard che avrebbe fatto comodo e peccato per essere due porte USB standard che avrebbero fatto comodo frontalmente come vi dicevo c'è un display touchscreen 13,3 pollici con i cili ridottissimi e c'è anche una webcam che integra riconoscimento con Windows in lock devo dire che funziona sempre però bisogna essere nella posizione giusta e comunque anche al buio funziona perché c'è riconoscimento a infrarossi comunque funziona ma comunque non è comodo come un lettore di impronte mentre la tastiera è completa layout italiano comunque si scrive bene è molto precisa confortabile si può scrivere anche a lungo senza nessun tipo di problema e anche a rete illuminata quindi al buio si scrive bene un touchpad che comunque non è grandissimo però comunque è preciso e si lavora bene mi ha dato invece fastidio che il tasto estro sia simulato da un click con due dita quindi diciamo non è molto comodo comunque ci sia vita comunque consiglio di usare un mouse se dovete svolgere operazioni particolarmente precise vediamo invece adesso le specifiche tecniche display 13,3 pollici full hd ips retroilluminato a vled pannello micro edge con touch screen pannello micro edge con touch screen processore AMD Ryzen 5 2500U quad core fino a 3,6 GHz scheda video AMD Radeon Vega 8 RAM 8GB DDR4 2400U SSD NVMe PCI Express 256GB NVMe slot M2 sistema operativo Windows 10 Home webcam IR HP Wide Vision HD con microfono digitale dual array con Windows low audio 4 speaker Bangaloo tastiera QWERTY completa rete illuminata e HP image pad che è un touchpad con molti gesture connettività Wi-Fi dual band BGN AC e Bluetooth in versione 4.2 come porta abbiamo due usb di tipo 3.1 una usb type c 3.1 gioca da 3,5 mm per cuffio microfono alimentazione e un lettore di schede micro sd batteria 53,2 VH dimensioni 30,67 x 21,46 x 1,49 cm peso 1,3 kg per quanto riguarda il display è un bel pannello 13,3 pollici è un IPS retroilluminato full HD comunque è un bel display è molto luminoso si vede bene anche al sole comunque ha buoni angoli di visione il touch screen è molto preciso comunque è un bel pannello c'è anche in confezione una penna attiva che permette di prendere appunto e disegnare ed è compatibile con l'intera suite di Windows Ink questo HP Envy X360 è un convertibile quindi oltre alla modalità notebook si può convertire ruotandolo in modalità tablet che ci sono varie posizioni si può avere quella tenda con lo schermo verso il basso o verso l'alto come preferite oppure può essere richiuso al contrario quindi diventa un tablet a tutti gli effetti come per esempio il tablet Android o comunque i tablet Windows senza tastiera poi come vi dicevo c'è la modalità notebook che comunque abbinata alla tastiera incorporata comunque diventa come un piccolo portatile a tutti gli effetti bene la connettività il Wi-Fi Dual Band è preciso, stabile nessun tipo di problema il Bluetooth è ancora in versione 4.2 ma comunque funziona bene ciò collegato, cuffie, mouse senza nessun tipo di problema comunque c'è anche il gioco per le cuffie come vi dicevo è peccato che non ci sia la ricarica tramite Type-C seppur ci sia questo connettore comunque la porta Type-C permette anche l'uscita video con un adattatore anche se segnala che comunque non è immediata la trasmissione del segnale video comunque ci mette qualche secondo in più rispetto a utilizzare un normale connettore HDMI su prodotti che hanno proprio questo connettore di default parliamo invece di prestazione abbiamo questo AMD Ryzen 5 2500U comunque devo dire che mi è piaciuto comunque abbinato a 8 GB di RAM DDR4 e abbinato anche a una buona SSD di cui parleremo tra poco comunque nell'utilizzo quotidiano per utilizzo Office quindi oltre al pacchetto Office anche in navigazione internet e visione video comunque non dà nessun tipo di problema poi si la ventola è parecchio rumorosa e parte però non nulla ma comunque è gestibile mentre quando si chiede un po' più di sforzo per operazione più completa a parte che la ventola fa molto rumore scalda un bel po' ma comunque devo dire che è gestibile ma dà un po' fastidio io l'ho testato molto con il montaggio video con Adobe Premiere e devo dire che se il montaggio non dà grossi problemi così l'anteprima lagga un po' ma comunque è gestibile poi comunque ho notato che i tempi di rendering sono parecchio lenti quindi diciamo che per esempio un video in due miei classici da 10 minuti ci metteva mezz'ora rispetto a il quarto d'ora che ci vuole con il mio computer che ha un processore più prestante mentre Red Gaming comunque ha una scheda video che non è potentissima ma comunque diciamo che i giochi più classici si riescono a utilizzare mentre Windows 10 il sistema operativo come vi dicevo comunque devo dire che funziona bene è la versione completa c'è anche Windows Ink da utilizzare con la penna attiva comunque diciamo nessun problema abbiamo infatti una SSD sullo slot M2 quindi una NVMe PCI Express e dai test che ho ottenuto con Crystal Disk Bench ho ottenuto in lettura 1713 mentre in scrittura si aggira intorno ai 859 MB per seconda comunque è un SSD molto veloce comunque l'apertura dei programmi e anche il tasto di minuto file comunque impiega davvero pochissimo tempo l'audio è garantito da ben 4 speaker quindi abbiamo un audio stereo e sono in collaborazione con Bang Olsen e devo dire che comunque il volume è alto e si sente davvero molto bene senza nessun tipo di problema per quanto riguarda l'autonomia non è il suo punto di forza ma comunque sarà cava 53,2 VH e comunque con uso misto quindi principalmente web browsing visione video su YouTube per esempio o altre operazioni base che l'uso del pacchetto Office 3-4 ore si riescono a fare senza grossi problemi poi vabbè stressando di più scende di più ma comunque in generale per l'uso per cui ho pensato che questo comunque straccava bene mentre con l'uso più intenso quindi utilizzando applicativi più pesanti diciamo che la batteria scende prima ma comunque per l'utilizzo Office web browsing straccava bene anche l'alta autonomia passiamo alle conclusioni il prezzo di listina attuale si aggira intorno ai 750 euro il prezzo di listina attuale si aggira intorno ai 750 euro mentre comunque su Amazon costa un po' di meno tipo 700 circa comunque in generale mi è piaciuto per la qualità costruttiva i materiali il design le prestazioni comunque diciamo che per l'utilizzo Office web browsing va molto bene comunque è l'ideale essendo così compatto da portare in giro da volare in treno in aereo dove capita la batteria comunque va bene il display è molto bello insomma comunque questi AMD Ryzen 5 mi stanno piacendo e comunque li reputo buoni processori comunque comunque questo modello in particolare comunque mi è sembrato assolutamente convincente vi ringrazio HP per il sample grazie anche a voi della visione in descrizione link per l'acquisto e alla recensione scritta con maggiori dettagli con qualcosa che mi viene in mente dopo posso aggiungerlo iscrivetevi al canale commenti aperti per qualsiasi dubbio lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima sempre qua sul mio canale ciao ciao ciao